Grazie Igea Studio Medico Roma, dottor Simone Pieroni, dottor Pieroni io la accantono solo per un momento perché davvero gentiluomo devo prima lasciarla parlare le donne effettivamente, dottoressa osteopata dico bene e non solo in ambito sia pediatrico che per adulti, ecco andiamo a parlare di Igea Studio Medico Roma, di che cosa si parla? Allora si tratta di uno studio medico situato tra le due metro Ionio e Concadoro, quindi zona talenti, è nato, è neonato insomma da circa un mesetto È una nuova attività È una nuova attività e in questo studio lavoriamo sia io che il dottor Pieroni affiancati anche da molti specialisti che hanno tutti, abbiamo tutti come filosofia quella di fare un lavoro d'equip che ponga comunque il paziente al centro della nostra attenzione Si lavora in equipe, si lavora in tandem, ognuno con le sue caratteristiche e specializzazioni, la dottoressa è un osteopata come abbiamo detto, invece dottor Pieroni lei è? Sono specialista in ematologia e mi occupo anche di medicina legale, rilascio di certificazioni medico-legali e lavoro anche come medico agopuntore e sono diplomato in agopuntura e infatti da questa è nata anche la collaborazione con la dottoressa Gazellone Il paziente trattato con agopuntura poi può essere abbiato anche a un ulteriore trattamento osteopatico Assolutamente, cioè un paziente che comincia il percorso assieme a uno di voi potrà essere subito rimandato proprio in loco ovviamente all'altro professionista proprio per magari avere una pratica su di sé essendo al centro Per poter risolvere determinate problematiche, un appunto a favore anche del centro polispecialistico è proprio tutto quello che riguarda il settore legale e anche di medicina legale Perché qui leggo, abbiamo rinnovo delle patenti ma anche il portodarmi è tutto quello che compete ovviamente questo ambito Non c'è solo questo, andiamo a vedere anche altre specializzazioni ovviamente in rapida successione per dare anche un'idea a chi adesso è in ascolto o ci sta seguendo sui social di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di altri specialisti quali chiropratico, medicina ayurvedica e psicoterapisti che appunto lavorano presso il nostro centro e siamo in collegamento anche con ulteriori altri specialisti, medici specialisti per il trattamento a 360 gradi del paziente Ho capito, ebbene adesso proprio perché bisogna mettersi nei panni del paziente mi metto proprio nei panni di colui che ha a che fare con questo centro polispecialistico Come funziona il tutto? Magari ho un determinato problema che però può essere visto da vari punti di vista come accade di solito nel mondo della medicina e quindi da più professionisti, come funziona? Le spiego, le faccio il nostro esempio, lavorando il dottor Pieroni con l'acopuntura, si è visto come il lavoro in sinergia ottimizza il risultato terapeutico, ossia con l'azione di acopuntura e il successivo trattamento osteopatico ad esempio sulle lombalgie Si è visto come se c'è un risultato, ecco questo risultato viene ottimizzato, quindi il paziente è contento, è soddisfatto e ottiene risultati ottimali Abbiamo nominato le lombalgie perché sono tra i problemi più comuni, certo, lombalgie, diciamolo, mal di testa, questo è chiaro, e stress, tanto stress che poi può inficiare su di noi in diverse modalità Siccome è una realtà giovane, è giusto che io vi faccia anche una domanda ostica ma doverosa, il 2019 praticamente è alle porte, è praticamente arrivato, ci sta attendendo Quali saranno le novità introdotte in questa giovane attività da voi aperta? O anche i vostri, come dire, sogni nel cassetto, siamo in radio e bisogna svelarsi? Beh, di certo siamo in espansione anche perché siamo appunto nati da poco e quindi la nostra intenzione è quella di stringere collaborazioni con un numero sempre maggiore di specialisti che ci possa affiancare, ci possa dare appunto sinergia nel trattamento dei pazienti per avere sempre una maggior soddisfazione, sempre del paziente stesso Assolutamente, soddisfazione in tutti i campi perché è chiaro che la medicina prevede sì la cura del corpo ma anche quella della mente C'è anche psicologia, psicoterapia e molto altro ancora, insomma benessere psicofisico del corpo quindi benessere del paziente, paziente al centro di tutto E per chi fosse interessato è ovvio che adesso vi darò tutti i contatti del caso Dopo questo vi dico anche che abbiamo il video social quindi potrete recuperare le informazioni che vi sto per dare in sovraimpressione nel nostro video Se doveste avere a che fare con IGEA Studio Medico Roma andate a mettere non solo un like, non solo una condivisione, quello già fatelo di per sé Ma andate soprattutto a mettere un commento perché il vostro feedback, la vostra opinione è importante Il lavoro di equipi, il lavoro in tandem, ecco questo è al centro di tutto Quindi diteci che cosa ne pensate dopo aver usufruito ovviamente dei servizi che i nostri professionisti di oggi vi mettono a disposizione E adesso è arrivato proprio quel momento di prendere appunti, numero fisso 0647544464 Ripeto 0647544464 L'indirizzo è via del casale Giuliani 29 come già ci ha detto la dottoressa Gazzellone a zona Ionio con Cadoro quindi in zona Talenti Contatto Facebook IGEA Studio Medico andate subito a mettere un like alla pagina Facebook Sito web di riferimento www.igearoma.it dove troverete all'interno di quest'ultimo oltre tutte le informazioni sui servizi anche altri riferimenti Come l'email info.igearoma.it Su Instagram IGEA Studio Medico Roma è questo il profilo della attività Quindi che altro mi rimane da fare? Beh lasciare lo spazio ovviamente per un messaggio finale ai professionisti di oggi Ospiti qui da noi al live social la dottoressa Gazzellone e il dottor Pieroni Dottori questo è il vostro spazio social radiofonico approfittatene se volete aggiungere altro o mandare un ultimo messaggio benvenga Allora vi aspettiamo tutti presso il nostro studio Per qualsiasi contatto potete appunto chiamare ai numeri che vi hanno appena detto E saremo lieti appunto di accogliervi presso le nostre stanze per un trattamento a 360 gradi Dottoressa? Sì assolutamente prenderci cura di voi in equip Assolutamente Sì assolutamente